Conscience uncoupling, scoppiamento consapevole, così Ginnett Paltrow e Chris Martin hanno annunciato la separazione e come si usa il messaggio, congiunto, è stato social ed è arrivato sul sito Goop. L'attrice premia Oscar e il frontman dei Coldplay, sposati dal 2003 e genitori di Apple e Moses, scrivono di aver deciso di separarsi con il cuore pieno di tristezza e dopo aver lavorato molto per vedere di risolvere i dissapori. Rumor di crisi erano emersi da mesi, ma solo ora è arrivata la conferma. Resteremo sempre una famiglia, siamo soprattutto genitori di due meravigliosi bambini e chiediamo il rispetto della nostra e della loro privacy, hanno aggiunto Ginnett e Chris, spiegando che alla fine la coppia d'oro dell'entertainment transatlantico ha deciso di andare ciascuno per la propria strada. Erano mesi che si parlava di una possibile crisi, accompagnata dalla voce che Vanity Fair stesse preparando uno scoop clamoroso. Ginnett era così partita all'attacco della rivista, mobilitando gli amici in un boicottaggio che alla fine aveva convinto il direttore a tenere le rivelazioni o presunte tali nel cassetto. L'attrice Martin si erano conosciuti nell'ottobre del 2002, si erano sposati nel 2003 e il matrimonio aveva accompagnato Ginnett in una nuova vita, meno star di successo e più diva della perfezione nella vita domestica. Però è difficile restare sposati, aveva confidato la stessa Paltrow e Glamour UK l'estate scorsa. Vivi momenti di grande felicità e momenti terribili, noi come ogni altra coppia.